Passiamo alla parte artificiale. Grazie a tutti. 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 Le manate volontari, quelle si possono evitare, ecco perché insisto nel corso della visita. Allora, nella stessa degli ultimi, deepest point of the visit, 150 meters of rock above us. La brutta notizia, la brutta notizia dicevo è che è tutta salita fino all'uscita, 150 metri lo spessore di roccia sopra di noi. Noi non li saliamo tutti, noi non li saliamo tutti, noi non li saliamo tutti i 150, ne recuperiamo 28 per arrivare sul fianco della collina. sulle pareti, sulle pareti trovate cristalli, è calcare lasciato dal calcare lasciato dal vapore che condensando ha dato al calcare questa forma anomala, veri e propri cristalli di calcite. Il colore rosso è ruggine, il colore rosso è ruggine, ma è minerale anche il colore, le macchie bianche sono di calcare stalattite che hanno circa 50 anni. Hanno cominciato a crescere quando entrando e aprendo la grotta abbiamo diradato il vapore. Sono le più piccole, tra due minuti salendo troviamo una colonna, 8 metri, 2 milioni di anni, quella è la più grande, quindi con calma ce ne andiamo a vedere. Il sole è un red, il sole è un iron of style, il sole è un rust, i colori sono minerali anche quelli, attenzione, 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 attenzione. Non avete problemi divertissimi, guardate sotto, guardate, 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 guardate. Guardate, 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 guardate. Guardate, 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 guardate c'è veramente tanto ferro quindi è veramente tutto rosso e peraltro più grigia da questa parte c'è questa bella alternanza dei colori quindi guardate proprio anche questo contrasto è bianco rosso e ricordate che questo è normale a parte da amici delle telecamere e dei telefoni la roba è buia 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 non c'è una luce accesa cazzo che coglioni non c'è un po' di intercumbare l'acqua non c'è un po' di intercumbare non c'è un po' di intercumbare ero buio non c'è un po' di intercumbare non c'è un po' di intercumbare Andiamo su, questa è l'ultima scala Che opzione? L'unica opzione L'unica opzione L'unica opzione L'unica opzione L'unica opzione L'unica opzione